Oh, possiamo vedere se la cabina armadio era spaziosa. Bene, la casa è vostra se la volete. La compriamo, scusi. Stai bene? Sì! Mary, sono io. Sono lei? Visto vero? Visto vero? Visto cosa? Lei lo sapeva. Continuava a disegnare angeli. Che ci fa qui? In un'ora e mezza ho percorso più di 600 chilometri. Non so come ha fatto. Alcune persone sono venute da me per denunciare fatti inspiegabili. Hanno visto strane luci, ricevuto strane telefonate. Pronto? Salve, John Klein. Ti parla. Cosa fai quando qualcuno ti dice che ha visto questo nel suo giardino? Mia moglie ha visto qualcosa. Disegnava figure come questa. Chi te l'ha dato? Lei sa cos'è? Un giorno cominciai a sentire voci che poi diventarono messaggi. Ecco, ero qui. Riusci solo a vedere i tuoi grandi occhi rossi. L'ha incontrato. L'ha incontrato. Mi ha detto non avere paura. Moriranno. In 99. Moriranno. In 99. Le vittime accettate sono 99. Mi legge nel pensiero, vero? Che cosa ho in mano? Chopstick, il proteggi labbra. Non è solo un messaggio. È una pafezia. Accadrà una cosa terribile. I terremoti devasteranno la terra. Le persone che conosci e ami moriranno. E nonostante quello che ti dice quella voce. Mio Dio. Hai paura, vero? Tu non potrai farci niente. Io posso fermarlo. Tu non potrai farci niente.